Eccoci qua finalmente con il video che tutti stavate aspettando, sì perché io lo so raga, voi siete furbetti Prima vi ho portato il video su come ottenere insomma le bottefico, quello su come attivare le macro Ma oggi vi porto il video su come attivare le hack su Fortnite se giocate da pad Quindi vale per PC, per PS4, per Xbox One, per Xbox 442, per Nintendo Switch Ed ovviamente da qualsiasi piattaforma con il pad Mi raccomando adesso vi andrò a svelare subito le postazioni però Prima se ancora non siete iscritti iscrivetevi immediatamente Adesso, adesso al canale attivando la campanellina delle notifiche per essere aggiornati su ogni mio contenuto Ed ovviamente codice creatore all'interno del negozio oggetti di Fortnite È semplicissimo negozio oggetti tasto supporto creator in basso a destra Gio trattino X97 tutto maiuscolo perché dobbiamo arrivare a 1000 supportatori Ed ovviamente se sono le inserite queste impostazioni non funzioneranno Quindi inseritelo subito Detto questo andiamo subito a vedere il video con le settings Allora ragazzi eccoci qua con i video Io ve lo dico questo è qualcosa di veramente sensazionale Infatti beh non so se vi ricordate i video delle impostazioni precedenti Quelli erano fenomenali è vero ma questo è qualcosa di spaziale Infatti non a caso vi parlo insomma non vi parlo di qualche piccolo trucchetto per migliorare i consigli Per fare i 5 kg in più Io vi sto parlando di come ottenere direttamente le hack Perché voglio dire senza queste impostazioni Beh per inserire dovete insomma barare e verrete sicuramente bannati Così guardate un po', guardate il mio video Inserite le impostazioni e diverrete dei veri e propri hacker senza essere bannati Cioè è veramente la perfezione Intanto già è, beh già parte quella gru rosa Ed è veramente qualcosa di spettacolare Qua pure gioca in arena raga Io non so se vi rendete conto delle clip che state vedendo Guardate un po', uccide prima uno Fembo, guardate il loot veramente spettacolare 6 kill, 3 giocatori rivasti Attenzione non si capisce più niente Guardate come pusha raga Lo hita, prende le ground Perché ovviamente allora nei video precedenti Gli altri player non erano sempre nei ground Infatti ve lo facevo presente Ve lo sottolineavo In questo di qua non c'è una volta In cui questo player non è in ground Adesso vi spiego bene cosa vi permetteranno di ottenere queste super impostazioni Guardate un po' 154 Ma cosa ha fatto raga Cioè veramente qualcosa 200 Cioè era adesso nel box e ha fatto 200 154 Ma cosa sta facendo Io, 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 non lo so Io me ne vado Allora vi spiego bene Queste hack insomma Cosa vi permetteranno di avere Beh voi dovete fare conto che queste impostazioni Sono proprio come le hack originali Quindi tutto quello che vi danno Certo ovviamente non è che se Vi lanciate da un monte E girate con il cecchino La mirama dell'avversario Quello a parte che è l'embot E poi non è possibile Però cosa vi permettono di avere Intanto una mira Che insomma va più facilmente nel giocatore Quindi ecco una specie di aimbot Va bene perché le hack Racchiudono aimbot Fluidità nell'edit Nella mira e quant'altro Beh io non so se intanto avete visto È 20.000 punti in arena Il ragazzo che ha queste impostazioni No così per dire Solo 20.000 insomma Io tra poco ci arrivo Sì Un altro vantaggio che vi permetteranno di ottenere È una fluidità assurda Bene ma adesso è arrivato il momento Che tutti stavate aspettando Cosa devo mettere Per diventare come lui Ecco qua Prestate molta attenzione Perché è questo Quello che vi permetterà Di diventare De avere i propri hacker A partire dalla season 4 di Fortnite Queste sono le impostazioni Del monitor Insomma Dello schermo Copiatele bene Ovviamente non c'è bisogno Che ve lo dico Mettete in pausa Se non insomma Arrivate a copiarlo Ovviamente Poi abbiamo le impostazioni Della rotellina Guardando un po' Reset Turbo Beading Poi abbiamo Youth Scale 85% Con tutto attivato E adesso arriviamo Le impostazioni più importanti Quelle del controller Ragazzi Ecco qua Vedete Advanced Look Ad horizontal speed Sensivity Poi abbiamo ovviamente Le impostazioni dell'audio E le combat controls E le edit controls Guardando un po' Turbo PX Lo utilizza Triangolo Anche switch mod Triangolo Trap Picker Place Lo utilizza quadrato Regà Veramente Qualcosa di strano Zona morta 0.12 E 0.12 Quindi insomma Andiamole subito A rivedere Ecco qua Lui bello tranquillo Insomma Ci va a vedere Le prime impostazioni Poi abbiamo Le impostazioni Della rotellina Ovviamente Vabbè Lui gioca Ne server NA inglese Reset Building Choice Turbo Building Ovviamente Tutti attivati Poi le impostazioni Della tastiera Non penso vi interessino E abbiamo Le impostazioni Del controller Look Horizontal Vertical speed 51% ADS Look And Horizontal Speed Come vedete Abbiamo Se non sbaglio 14 Non ho fatto neanche Il tempo a leggere È velocissimo E poi Combat Controls Come vedete Edit utilizza La freccetta Destra Quindi insomma Voi inserendo Queste impostazioni Diverrete Ma non il triplo Regà Perché già le ho provate Io Io sono stato Veramente Tutta la giornata A giocare Con queste impostazioni E devo dirvi Che sono uscite Delle partite Da caricare Infatti Sono veramente Velocissima Adesso Vi direte Come è possibile È la verità Regà Velocissimo Sia a buildare Sia ad editare E poi una cosa Veramente Sensazionale È il movement Regà Io non ve l'ho Sottolineato Molto nei video Precedenti Però con questo Ci tengo Veramente tanto Infatti Se utilizzate Queste impostazioni Insomma Non sono solo Ovviamente Della mira Ma pure Del movimento Cambierà totalmente Regà È veramente Qualcosa Di assurdo Cosa molto Molto importante Se siete arrivati Fino a questo Momento del video Lasciate assolutamente Un bel pollicione In su Per far funzionare Le impostazioni Quindi mi raccomando 5 secondi di tempo Meno 5 Meno 4 Meno 3 Meno 2 Meno 1 Tempo scaduto Mi raccomando È lasciato Mi piace Fallo subito E condividi sto video Con tutti i tuoi amici Così insomma Aiuterai anche allora Ad inserire queste acche Perché raga Sono le impostazioni Che tutti ne vogliamo Cioè Guardate un po' Quello che combina Questo giocatore È veramente Veramente assurdo Atterra tutti Ma la cosa bella È che gioca pure in arena Anzi Ma si può registrare Un video Delle impostazioni Mettere i giochi in arena E magari perdi pure punti E no Non si può Però lui l'ha fatto Ed è veramente qualcosa Di eccezionale Guardate il movement Guardate la velocità Con cui si boxa Già praticamente per dirvi Si esce il dato E i giocatori Non lo stanno neanche pushando Perché effettivamente Capiscono che non ha Non sa da fare Con questo player E vabbè Allora se i giocatori Non vengono da me È lui che va da loro Guardate già C'è tra l'altro Pure il suo amico a terra Che è stato killato Boom Subito Un arre con expert Dovrebbe essere Cioè Azzino Non gli da tregua Non gli da tregua Ogni muro è suo Lo prende Edite E poi insomma Va a finire così Che pure che hanno i muri Lui trova un'alternativa Ecco qua Per killarli E grazie a queste impostazioni Che pure voi potrete diventare così Veramente un qualcosa di eccezionale Regà Io vi do la mia parola Ovviamente Andate ad inserire subito Queste impostazioni Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Come vi trovate E ovviamente Beh Se vi trovate bene Condividete questo video A tutti i vostri amici Vi lancio questa sfida Vi do due partite Anzi E magari per vedere come vi trovate Se vi piace Non lo dovete mandare Almeno a dieci amici So va su whatsapp Su instagram Vedete voi Ma tanto so che vincerò questa sfida Perché queste impostazioni Sono veramente fenomenali E poi vabbè Non parliamo della skin Che non l'ho mai vista Però sembra veramente da pro gamer E questo video Vi ricordo che vale per la season 4 di fortnite Quindi è veramente qualcosa di eccezionale Come vedete Trenta giocatori rimasti Ovviamente questo Atterrato Xomario Io Non ho veramente parole Mi raccomando raga Assolutamente Inserite codice creatore Gio trattino X97 Come vedete qui sotto di me Ed ovviamente Se lo utilizzate Potete fare il provino personalizzato Per il mio team Quindi non aspettate altro Ed inseritelo subito Andatemi a seguire Sulla piattaforma viola Vi ricordo che se avete Amazon Prime Potete fare la sub gratuita Quindi per avere tanti vantaggi Quindi non aspettate altro Chiedete a vostri genitori Se avete Prime Ed abbonatevi al mio canale Gratuitamente Ed ovviamente ragazzi Condividete il video Con tutti i vostri amici Chiedete a vostri genitori